eccoci qua amici del convento con una odalisca no come ti descriveresti non lo so sono felice 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 intanto è un buon aggettivo per descriversi essere felici ti diamo il benvenuto come ti chiami silvana silvana da dove vieni da brescia la brescia e cosa festeggi questa sera con noi 40 anni che bello auguri silvana pensa che immaginavo volessi festeggiare non lo so la tua il tuo arrivo a imperatrice d'egitto no ecco si dice si dice alla mia persona sa dice addirittura che imperatrice saresti come ti chiameresti trova un nome del passato a che lo patra ma no si ma quella esiste già trova un nome tuo scatuscia scatuscia bello bello scatuscia che vuol dire in lingua egiziana grande la persona ha capito io sul gran bella andavo pensavo andasse a finire in altro modo poi invece detto grande la persona io pensavo finisse con un piatto un primo un famoso primo o un altro animale roditore quelle cose lì no 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 invece persona persona ti ringrazio che significa aspetta quindi dicevamo gran bella persona perché perché sono capace sono improvvisare molto bene improvvisare su cosa la vedo c'è questa impostazione della mano molto regale no vedi che vedi come come la muove in modo molto impostato bello bello mi piace allora dai fai certo concludiamo fai un bel saluto e noi ti facciamo gli auguri grazie grazie salutiamo anche noi auguri a lei ciao ciao